Bentornati su MyFootballGersy. Vediamo oggi questa splendida maglia, la seconda del Barcellona per la stagione 2008-2009, in edizione fan, una maglia stupenda di Messi! Grazie per la visione! la maglia al mio avviso è veramente molto bella sono curioso di sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensate fatemelo sapere a me piace tanto il colore giallo un po' fuori dagli schemi la banda laterale dei colori della barcellona e questo bordino blu fanno della maglia una versione molto elegante il corso l'avete visto qualità veramente buona i tempi di spedizione altrettanto questa arrivata in 19 giorni io direi che sono rimasto molto soddisfatto ora vi lascio la parte finale prima però fatemi sapere nei commenti che altre maglie vorreste vedere e ricordatevi di iscrivervi al canale per oggi è tutto alla prossima iscriviti al canale